Musica Buongiorno a tutti ragazzi sono Cristian Pretto e in questo video vi farò vedere che qualcosa Che forse non avrete mai visto Cioè vi spiegherò come fare il coq con il coq Allora prima di tutto per fare questo carbone bisogna fare dei brick I coq oven brick che si fanno con 5 pezzi di cubi di sabbia messi in questo modo E 4 mattoni si fanno i coq oven brick Con questi mattoni si deve fare una fornace come questa Allora adesso vi spiego come si fa Bisogna fare una base di 3x3 blocchi Da 9 blocchi E poi si fa il contorno lasciando libero in mezzo Poi un'altra volta E si ricrope solo in cima E così avrete fatto la fornace Con la fornace Per farlo funzionare Bisogna mettere dentro del carbone E così si azionerà E vi farà i coq oven brick Scusatemi E poi Oltre a questo carbone speciale Che dura molto di più del carbone normale Vi dropperà anche il creosote oil Che serve per Adesso vi faccio vedere Come ho messo qua Per fare i coq oven thai Che Vi serviranno per fare Fare pezzi di Pezzi di ferrovia E cose del genere Per questo tutorial è tutto Spero di esservi stato utile E Si Commentate Iscrivetevi Mettete un pollicione in su E Al prossimo video Mettete un po'